Allora ragazzi, ma sempre queste macchinine in giro, ma non me le si sistemate, ridete voi, ma bucate e poi ridete, guarda queste macchinine dappertutto, adesso ve le butto, qua te le butto tu, no? Però dobbiamo trovare un modo per sistemarle queste macchinine, Gliarco dove le possiamo mettere? Qui, qui, a capire quando avete finito non è che me le lasciate in giro. Dove mettiamo? Qui in fila. No, allora dobbiamo costruire un garage, come lo facciamo? Allora, guardate che bella pista, ma questo che è? Gliarco, fa un po' vedere. E' tipo un garage, ma non è che possiamo lasciare qua in mezzo alla strada. Allora guardate, mi è venuta, mi è venuta un'idea. Allora, pronti? Adesso le attacchiamo, guardate che facciamo, ma avete visto quella scatola che avevamo preparato per mettere vicino all'albero di Natale? Quella gialla. Allora, guardate, Jacopo, vieni qua, vieni. Jacopo, vieni qua vicino a me, sai che facciamo adesso? Ti ricordo questa qua è un pacco che vogliamo mettere vicino all'albero di Natale, per così fare i pacchetti finti, per le stifiche, invece ci facciamo, ci facciamo, un garage per le macchinine. Allora, Jacopo, vieni, guarda, ah, vedi? Di cosa abbiamo bisogno per fare questo bellissimo garage? Ok, ma, ferma. Dei rotoli di cartigenia. Chi li ha dipinti questi? Chi li ha dipinti? Yaya e Ginevra. Allora, guardate, noi ovviamente abbiamo già preparato qualcosa. Allora, guardate, no, vi spieghiamo cosa ci mettiamo. Abbiamo già preparato un po' di cose. E noi, la fate, la loro lì, gli tetti, guardate. Vieni, vieni, Ginevra, Ginevra, vieni qua, vieni. Allora, Jacopo, allora, queste le hanno pitturate tutti i bambini, mi raccomando, per fare questo garage per le automobili avete bisogno solo di una scatola di scalpe, la colla a caldo o la vinaguale. La colla a caldo, se potete utilizzarla voi, è meglio, ok? Allora, Ginevra, guarda, aiutami. Gabbo, ma, e te metti un cattolo? Eh, questi perché deve rimanere un garage. Questo adesso lo trasformiamo in un garage per le macchinine di Jacopo e tu c'hai le barbi che le abbiamo sistemate. Allora, pronti? Jacopo, allora, passatevi un rotolo di cartigenia, via. Passamelo uno pure, pure Jacopo, ah? Sì. Allora, guardate, eh, si mette la colla a caldo qua nel barattolo, nel rotolo di cartigenica e si appoggia e si attacca qua. Un altro rotolo, per favore, grazie. Guardate, eh. Ma ho visto due gialletti. Giallo alla lomba. Allora, Ginevra, fai una cosa, vammi a prendere un bel colore. Jacopo, vieni, porta qua le macchinine. Anzi, fai vedere come gioca Jacopo sul garage. Jacopo, fai un po' vedere come funziona quel garage, delle macchinine? Me lo fai vedere, amore, eh? Quel garage là che c'hai tu, come funziona? Ginevra, vieni, vieni. Parlando. Sì. Non è che in tutti i video non facciamo i demicetti, Ginevra? Allora, perfetto. guardate, eh, che bel garage che stiamo facendo. Ah, vedi come funziona? Quello serve per far scivolare le macchine. E questo è un ascensore? È un ascensore, un garage, c'è veramente di tutto. Allora, Jacopo, sei pronto? Allora, guarda, porta tutte le macchinine. manca solo una cosa però, eh? Eccolo qua, Jacopo. Questo qua invece serve per mettere altre macchinine. Se avete delle macchinine più grandi che non c'entrano qua dentro, ci mettete il piano qua sopra. Eccolo qua. Allora, macchinine, abbiamo bisogno delle macchinine, per favore, portatele. Ginevra, vieni, vieni, vieni da cielo. Vabbè, fratta. Eccolo il penarello. Vai, vediamo, eh. Ha ragione. No, serve uno che si vede tanto. Prendi tipo il nero, il marrone, il blu. Allora, Jacopo, sei pronto? Vieni, dammi tutte le macchinine. Anche il viola, vai. Guardali qua un pochino. Jacopo, dove si mettono le macchinine? Fai un po' a vedere ai bimbi che si guardano. Dove vanno qua le macchinine? Sì. Vanno dentro? Guarda, Jacopo, quando la sera è finito di giocare con le macchinine, guarda, Babbo. Vanno dentro al loro garage. Ognuno avrà il suo box personale, eh. Queste piccoline. Questa qua grande. No, questo va sopra, vedi? Queste più grandi, così le mettiamo sopra, va bene? Ah, guardate cos'è il nostro Jacopo. Uno skateboard per le dita. Bellissimo. Vai, metti dentro. Vai. Bravissimo, batti il cinque. Yes. Vieni, vieni, vieni a mettere a posto le macchinine. Vieni. Sono cattivo. Bravo, Jacopo. Vedete, questa cosa è importante anche per i bambini, per capire come sistemare divertendosi. Questa che è grande, Ginevra, dove va? Vediamo, eh. Fai vedere. No. Guarda, abbiamo fatto il ripiano sopra. Eccola, un'altra auto che va sul ripiano. Bravissimo. Allora, anche lo skate lo mettiamo sopra, che è carino da guardare. Allora, fermi, eh. Bravissimi, mettete a posto. Io intanto, purtroppo, quella che scrive e fa le cose fatte bene, la mamma. Infatti, vedete, è un po' tutto storto. Allora. Questo che è? Eh, che cos'è questo? Cosa abbiamo detto? Un garage. Ovviamente poi la scritta mamma la rifà, ci attacchiamo sopra, che non è proprio bellissima. Io, sapete che la mia mestra delle superiori mi voleva far scrivere. No, non lo faccio. I temi a computer, perché non sapeva leggere la mia scrittura. Allora, abbiamo sistemato tutte le macchinine? No, no. Allora, vi dà, mi mancano altre macchinine? Allora, eccole qua. Dove stanno le macchinine? Allora, spostali, vi facciamo vedere la mamma. Allora, vai. Fermi, eh. Spostati, spostati, Jacopo. Allora, questo qua, a cosa serve? Guardate, eh. Allora, Ginevra, ecco, vi abbiamo fatto vedere tutto. Questo qua, poi, lo appoggiate. Vi facciamo vedere come funziona, Jacopo, lo appoggiate. Mettete le macchinine. Aspetta, Jacopo. Ginevra, spostati, spostati che non vedono niente. Mettete le macchinine qua e poi potete fare una cosa. Se dovete fare un viaggio, dovete uscire, prendete, chiudete, in modo che le macchinine non vi vanno in giro per la macchina. quando andate con la macchina al ristorante. Mamma, mamma, mi prendi una macchinina? E voi cosa fate? Certo che te la prendi. Aprite il garage e, ta-da! Eccole qua. E chi vi ci vuole? Una! 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 Due! Tre! Sì, amore, abbiamo finito. Adesso salutiamo. Vai! Un altro video, non facciamo parte. Un altro video? Eh, dobbiamo interrompere. Allora, vai, prendi le macchinine, giocate, fate vedere come scivolano e ecco qua il vostro garage semplicissimo, fatto a casa, insieme ai vostri bimbi. Chiudete e mettete a posto. Jacopo, saluta! Manda un bacio, Jacopo! Ginevra, manda un bacio! Non ce la mettiamo più nei prossimi video, eh! Ciao a tutti dal mondo di Tantalo! Ciao! Ciao!